Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato questa mattina in Contrada a Biggini, tra la zona industriale di San Cataldo e Caltanissetta, a scontrarsi un'auto e uno scooter. Le conseguenze peggiori le ha riportato un nisseno di 41 anni che non era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e che presentava anche mancanza di sensibilità agli arti inferiori. Ha invece accusato un trauma addominale una giovane di 36 anni di origine cinese. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.